Mauro Di Vito, il nuovo direttore dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli, qual è la missione che porterà avanti durante il suo mandato? Sicuramente la missione principale dell'Osservatorio Vesuviano è monitorare i vulcani napoletani nel modo sempre più avanzato possibile in modo da avere un'idea sempre più chiara dell'attività, dello stato di questi vulcani, delle variazioni e utilizzare sempre di più le tecnologie più avanzate ma soprattutto anche il know-how, la conoscenza più avanzata per poter elaborare i nostri numerosi dati. Noi siamo uno degli osservatori che ha reti di sorveglianza molto avanzate ma bisogna lavorare ancora di più su questo e su far dialogare tutti questi dati ma anche aprire il nostro osservatorio agli altri osservatori nel mondo e alle università in modo da avere sempre di più un livello elevato scientifico sia di conoscenza ma soprattutto dei risultati del nostro lavoro. Questa è una missione difficile perché far dialogare enti diversi non è una cosa semplicissima ma noi abbiamo il vantaggio che abbiamo i vulcani tra i vulcani meglio studiati al mondo quelli nei quali c'è una tradizione anche culturale molto lunga il Vesuvio è conosciuto in tutto il mondo, era meta di ricercatori, meta del Grand Tour e abbiamo un altro gioiello a Napoli che non dobbiamo dimenticare che è sul Vesuvio che è il più antico osservatorio vulcanologico al mondo ebbene si coniuga cultura, scienza, storia della scienza e tutte queste cose vanno messe a frutto con un obiettivo importante.